Ciao a tutti, bentornati a Infosec Unplugged, io sono Adria Dainese, con me c'è Rocco Sicilia e oggi volevamo parlare di come selezionare una soluzione di ADR. Ciao Rocco! Ciao, ciao, buon dia. Un tema immenso, non saprei neanche esattamente da dove partire, quindi ti lascio campo libero e poi aggiungiamo via via. Forse con oggi chiudiamo il tema ADR, forse, non so se ci lasciamo qualche... No, non ci credo, abbiamo almeno altri due temi che oggi non ci stanno, XDR e Levasion. Ok, sulla parte di selezione io personalmente mi sono fatto un'idea, diciamo un po' sull'utilizzo delle piattaforme, nel senso che, al di là della bellezza tecnologica, dei vari sistemi, delle dashboard che a un certo livello di soluzioni sono molto accattivanti, proprio per come si usa l'ADR, almeno sull'idea che mi sono fatto dell'utilizzo dell'ADR in due contesti principali, chi è l'azienda che acquisisce la soluzione e in qualche modo se la autogestisce, che è un contesto, e un altro contesto in realtà nettamente diverso è l'azienda che fa presidio, quindi il servizio MDR o il servizio SOC o il servizio DEFENSE, comunque chi sta dalla parte blu e usa quella soluzione in un modo un po' più profondo, tendenzialmente, dell'azienda invece che la acquisisce per se stessa, anche se la da in gestione le terze parti. E uno dei concetti di base, diciamo che uno dei temi di base che me l'ho portato a casa è per come funzionano gli ADR, di base sono divise in tre macro componenti, la parte diciamo ereditata dal mondo antivirus, adesso qua dirò delle imprecisioni per semplificare, quindi mi perdoneranno i puristi del mondo DEFENSE, però c'è una macro componente quella, chiamiamola di analisi statica, quella che controlla se un certo file appartiene a qualcosa di già noto, per fare un esempio, la parte dinamica... La modalità diciamo vecchia con cui funzionavano i vecchi antivirus basati su firma. Esatto, esatto, che gli ADR tendenzialmente conservano, cioè hanno anche quella componente, e la parte che diventa più interessante è che quell'analisi dinamica tendenzialmente è fatta tramite delle sandbox, di solito, quindi l'ADR detona il malware, il file sospetto, il processo sospetto, il file sospetto in una sandbox, vede cosa succede e in base a quello che osserva, in base a una serie di parametri, valuta se hanno qualcosa di sospetto o meno, e poi c'è l'analisi comportamentale. Una sandbox che non è detto che sia locale, anzi di solito non è mai locale, tranne rarissimi casi, ma è su sistemi basati su cloud, quindi questo va considerato, perché ci sono alcune aziende che hanno delle, si sono date, per meglio dire, delle policy molto strette, e questa cosa può essere effettivamente una scelta, un vincolo piuttosto che no. Sì, 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 è vero, da valutare, perché comunque nel momento in cui l'ADR decide di analizzare un file, e la sandbox è in cloud, vuol dire che quel file necessariamente deve essere spostato in cloud, e ovviamente non possiamo decidere, salvo fare delle policy che escludono certe tipologie di file, cosa viene mandato in cloud, solo che se escludessimo inevitabilmente toglieremo la possibilità di fare analisi dinamica su certi file, quindi sarebbe un po' un controsenso, però hai ragione, chi ha dei vincoli stretti a livello di utilizzo della cloud dovrebbe pensare a questo elemento, quindi è uno degli elementi di valutazione, se usare o meno una certa tecnologia, adesso sai che non me ne vengono in mente chi non usa cloud, perché quelli che ho in mente io, i blasonati penso usino tutti i servizi in cloud. Allora io ho in mente un'azienda che è nel medicale, che si è data come policy per sé, e per i proprio parco fornitori, il non utilizzo di sistemi cloud, dove questa affermazione, ecco qua si apre un altro tema, è un po' assurda in sé, perché le ultime versioni di Windows, dalla 10 in poi credo, nativamente fanno telemetria su cloud e non è possibile disabilitarla, quindi l'idea che un'azienda possa essere off cloud completamente oggi, non è possibile, quindi già la policy andrebbe un attimo corretta, in particolare però avevano paura che determinati tipi di file interni, sul funzionamento del loro prodotto o sulle informazioni medicali, finissero nel cloud e quindi si erano dati questo veto, però anche lì le mail molto probabilmente, adesso non ricordo, ma non sono basate su sistemi locali, quindi posso capirla come policy, chi fa sviluppo magari ha breveti eccetera eccetera, magari nel militare posso capire che abbia un livello di paranoia più alto, bisogna capire se questo livello è effettivamente applicabile e quali sono i drawback, l'altra faccia della medaglia, però disquisizione che magari apriremo in un altro momento. Sì sì sì, e poi c'è il tema comportamentale, quindi la parte più intelligente se vogliamo così dire di questi strumenti è il fatto di analizzare i comportamenti con delle tecniche che forse non è il caso di sviscerare, però suggerisco due, anzi metto il link poi nel video delle slide di uno speech di SecLabs, se non ricordo male, del 2022 addirittura, dove si parlava appunto di evasione e spiegava bene il comportamento, l'analisi comportamentale per bypassare quel tipo di analisi e penso sia molto utile anche… Perché il podcast, Cyber Security Podcast, mi pare si chiami di Nicolas, che credo abbia portato il tema e lui lo fa sempre con un grado, un livello tecnico molto più volutamente, più avanzato rispetto a quello che ci siamo dati come obiettivo noi. Esatto, e poi vabbè c'è il libro di recente uscita Evading ADR, dove spiegate molto bene, sempre partendo dall'Evading, come funzionano le tecniche di analisi, perché alla fine l'evasione è l'aggiramento di una tecnica analitica, quindi vengono illustrate molto bene come funzionano queste tecniche di analisi. E su questo un po' si forma quello che poi l'EDRC ci dice, su questi tre elementi di analisi abbiamo gli output dell'EDR. Siccome poi quegli output dobbiamo capirli, cioè l'analista deve capirci qualcosa di quegli output, non dobbiamo prendere l'EDR come un oggetto che spara allarmi e basta, perché è limitante da quel punto di vista. Il primo elemento di valutazione è come vengono visualizzate e presentate tutte le telemetrie che la soluzione ci dà a disposizione, perché se poi ci devo fare attivamente analisi, cioè il processo richiede necessariamente che l'EDR fa dei controlli, mi dice che c'è qualcosa di sospetto, è una persona controlla e fa la verifica, quello che viene chiamato triage, se quel dato è effettivamente qualcosa di sospetto, quella che l'informazione è sospetta o meno, e da quello decidere se attivare poi la parte di investigazione. Se non capisco cosa mi sta dicendo, perché mi mancano degli elementi, perché non usa un linguaggio standard, ormai tutti usano la nomenclatura mitre per raccontare un po' di informazioni, faccio ovviamente fatica, proprio già in fase di triage, già non faccio fatica a capire cosa sta succedendo, e quindi mi perdo dei pezzi. So che è oneroso dal punto di vista di chi deve selezionare quella piattaforma, sicuramente chi fa MDR e SOC non ci andrà giù leggero su questo tema, perché sarà il principale lavoro che faranno, la parte di triage e investigazione, ma anche internamente se non mi appoggio a terze parti, se non mi è utile, se non mi è comodo, diciamo come la dashboard mi consente di analizzare i dati, dovrei farmi delle domande da quel punto di vista. Un primo criterio possiamo chiamarlo usabilità, usabilità della piattaforma. Anche io lo metterei sotto usabilità proprio della piattaforma, ipotizzando che il livello di detection sia pari, diciamo su tutte le soluzioni che stiamo osservando. Quindi facendo un passo indietro, è che non è vera. Questo avrebbe il tema, di cui leggevo proprio ieri un posto su LinkedIn che faceva un sondaggio, la soluzione DR, ti fidi, la testi saltuariamente o la testi regolarmente. Forse l'ho visto anch'io quel sondaggio. Lo aggiungiamo come tema? Sì, sì, sì. Eh beh, sì. Io sai che io sono pro-testing, cioè secondo me tutte le soluzioni di sicurezza quando le hai messe in campo o le provi a un certo punto, cioè vedi se fanno quello che fanno o se no c'è un... stai dimenticando una parte fondamentale della tua postura, come gestisce la tua postura. D'accordo completamente. Anche il tema detection in realtà è corretto che faccia parte delle cose da analizzare. È un po' più difficile, forse. Nel senso che metto nei panni di chi fa la valutazione. Il CIO, il CISO, l'ITMAN. Il CISO magari non fa in prima persona la valutazione, però commissiona la valutazione ai suoi sistemi ingegneri. probabilmente è poco plausibile, non so, è anche una tua esperienza, che il team si metta lì e faccia una POC su due o tre vendor. Cioè, plausibile, però un po' oneroso, no? Da quel punto di vista proprio del tempo che richiederebbe fare quel tipo di lavoro. E onestamente non so neanche quante persone, parliamo di un contesto aziendale, quindi un team IT che non è detto che faccia security nel full time, no? Quante persone hanno veramente la capacità di capire se i livelli di detection di una soluzione sono meglio rispetto a quelli di un'altra? Un po' complicatina come analisi. Io sono tra quelli che ritiene che su una certa fascia, più che di detection, non parlerai di capacità di rilevamento delle telemetrie. Da quello che ho visto, le telemetrie rilevate sono praticamente paritetiche. Quindi quello che l'EDR osserva è di altissimo livello in tutte le soluzioni di fascia alta. La differenza, forse lo accennavi tu anche a volta scorsa, sta nel rule set di base che la soluzione presenta. Volevo aggiungere, culturalmente, secondo me qui siamo molto molto indietro, nel senso che mi è capitato abbastanza di rado di vedere POC testing funzionali di dispositivi, parliamo in generale, in particolare mi viene in mente un caso in cui ho visto un testing avanzato di bilanciatori, quindi un paragone tra vendor in cui il cliente poi basandosi sui risultati di questi test, quindi su dell'evidenza, aveva scelto uno piuttosto che l'altro. Nell'ambito security, test di sicurezza, quindi non test funzionali, ma test di sicurezza, non li ho mai visti in campo, se non quelli che fanno poi, diciamo, i consulenti per verificare BOST, se le soluzioni fanno quello che devono fare, quindi penso che prima di tutto sia un problema culturale, non c'è l'idea di compro una soluzione di sicurezza, un firewall, un NAC, eccetera, eccetera, e verifico se fa quello che deve fare, tantomeno sull'EDR, poi di fatto, effettivamente come dicevi tu, mancano le competenze, come fa chi viene dal mondo IT a testare un'EDR? Non ne ha le capacità. Io ho visto due modalità per testare un'EDR, stiamo un po' uscendo, però già che ci siamo, uno è tramite tool automatici, in cui fanno passare una serie di mali, una serie di attacchi, attraverso la rete, attraverso e fino all'endpoint, per verificare se questi attacchi vengono bloccati, che ha, questo sistema, la capacità, essendo automatico, di eseguire centinaia, migliaia di attacchi in tempi piuttosto brevi, e poi c'è quello manuale, dove c'è un tentativo molto puntuale di utilizzare delle tecniche di evasion specifiche per bypassare le soluzioni di sicurezza. Ecco, io, ripeto, mai visto farlo prima di acquisire, diciamo nella valutazione della soluzione, e raramente l'ho visto anche dopo. in effetti penso sia proprio complicato da inserire nell'effort di un'azienda che sta acquisendo quella soluzione, ma per quanto grande sia, salvo casi particolari che sicuramente esistono, in cui esiste un security team, mi vengono in mente nei contesti bancari, ad esempio, dove per forza di cose, visto l'introduzione di Tyber, stanno nascendo, o sono anche già nati in passato, security team dedicati, cioè persone che vanno solo quello all'interno dell'ambito, allora è plausibile che ci siano il tempo, le competenze, il commitment per fare quel tipo di attività. Diversamente si fa fatica. Io ho trovato molto utile anche ci sono aziende di consulenza specializzate nella parte proprio di simulazione di attacco che pubblicano dei report, anche questi da prendere con le pinze perché i report hanno una, dovremmo usarli con delle scadenze naturali, cioè nel momento in cui viene pubblicato un report su un'analisi, in questo caso loro hanno fatto più report in cui mettono a comparazione usando dei tool di mercato, diciamo, di Evasion, e in realtà usano principalmente due tool, Cobalt e l'altro che stavo guardando oggi, Slider mi pare, si chiami, che stavo guardando in questi ultimi giorni, e sottopongono a tecniche di evasione varie brand di R e danno poi il loro output. Interessantissimo. Occhio però che quel report nel momento in cui esce a gennaio 2024, fra due mesi la validità non è tutta da riconfermare, nel senso che l'evoluzione all'interno di queste soluzioni è costante, quindi non affidiamoci, cioè affidiamoci al report, ma occhio alla data di rilascio del report, non prendiamo un report del 2021 e basiamoci su quello per selezionare la soluzione, perché sarebbe un errore proprio tecnico da quel punto di vista, però sono utili da quel punto di vista. Proprio l'uscita del report modifica le condizioni, cioè il fatto che delle cose, delle tecniche, delle modalità, anche dei gruppi, diciamo, criminali, vengano in qualche modo resi noti al pubblico, non siano più, diciamo, discussione nei salotti, modifica il comportamento di tutto l'ecosistema. Eh guarda, mi dai, lo spunto proprio per l'altro punto, secondo me è importantissimo, forse più difficile da indagare, ma è importantissimo, secondo me, verificare l'impegno del vendor lato threat intelligence, cioè, visto che buona parte dell'evoluzione, delle soluzioni si basa sugli indicatori di compromissione e gli indicatori di attacco che conoscono, che sono già stati inseriti nel database dove, diciamo, di raffronto, perché tutto quello che viene analizzato viene raffrontato, no? Vedo una chiamata a una certa URL, vuol dire che l'EDR poi va a verificare se quella URL fa parte di un set indicatori di compromissione noti, essenzialmente, ed è una parte enorme della detection degli EDR. Quindi, più il vendor è attivo e attento alla tematica threat intelligence, perché dalla threat intelligence arrivano, diciamo, si scoprono nuovi indicatori di compromissione, più è probabile che, diciamo, quell'EDR sarà up to date, avrà quel database aggiornato. E questo è un primo elemento che fa parte, potremmo inserirlo nella tematica del rule set di base, no? Cioè, se di default la mia soluzione ha gli IOC molto bene aggiornati, già sono, diciamo, ho risolto un pezzo del problema. Quella tra l'altro fa la differenza tra l'essere compromessi, fermo restando che il primo caso ci vuole, e quello è il caso in cui tutti apprendono come funziona un determinato tipo di minaccia, ma da lì in poi la velocità di aggiornamento del vendor, come hai detto tu, la velocità di aggiornamento della soluzione sugli IOC del vendor è quello che può salvare dal secondo in poi, dal secondo target in poi. Sì, sì, sì. Tra l'altro molti vendor, anche questa cosa, so che è noioso, però leggiamoci lì i report dei siti dei vendor, perché le spiegano queste robe qua. È una, posso capire che leggersi il, il datasheet di come funzionano, diciamo, il team di threat intelligence del vendor non sia particolarmente affascinante, però siamo anche qua a chiacchierare di queste cose anche per renderle note, però lì è proprio spiegato, cioè se un vendor, fidandoci ovviamente di quello che viene detto, però se già un vendor ha un team di threat intelligence che lavora in un certo modo, avremo un certo, potremmo ipotizzare che certe cose sono curate. Se un vendor invece non ce l'ha proprio, perché li compra esternamente, non vuol dire che non l'abbia IOC, li compra fuori, probabilmente il tempo di aggiornamento potrebbe essere inferiore rispetto a chi se lo auto crea, se ce l'ha già internamente, quindi sono cose da valutare nel momento in cui, effettivamente è una questione di tempo, nel momento in cui un threat actor introduce un nuovo comportamento, neanche parlare di tecniche, di tattiche, tecniche e processi, proprio semplicemente un nuovo, un nuovo set di host che fanno parte, ad esempio, di una botnet, quindi una serie di IP, nel momento in cui riesco a rilevarle, inserire subito nel mio database di IOC, da quel momento la mia soluzione comincerà a identificare, quantomeno come sospetti, tutte le chiamate verso quel set di IP. È molto, diciamo, pragmatica la cosa. Ciò non toglie, e qua forse, mi sto facendo l'idea che i team IT che non hanno un commitment specifico, quindi che non sono dedicati alla gestione della sicurezza informatica, penso sia quasi impossibile per loro seguire la soluzione, ma la soluzione deve dare tutte danno, in realtà la possibilità di arricchire che è IOC. L'idea che mi sto facendo è ottimo valutarla, cioè se sei un'azienda che deve scegliere una nuova soluzione, anche questa è una cosa da valutare, come ad esempio la presenza di API, che avevamo discusso anche l'altra volta. Purtroppo, mi viene da dire, non so quanti team IT poi possono veramente apprezzare quella soluzione, nel senso che quanti hanno il tempo e hanno il commitment strutturato per fare quel tipo di attività, cioè raccogliere nuove IOC e inserirli nella piattaforma. È un po' più difficile forse per un'azienda che non lo fa di mestiere. Mentre lo potremmo dare... Avevamo parlato di aziende diciamo quelle che veniamo più a contatto del territorio, quindi hanno una specificità, sono tipicamente produttive, le aziende diciamo IT, di cui l'IT è il cuore del processo di business, ci sono, ma sono a numero inferiore rispetto appunto al territorio in cui siamo e avevamo concluso che chiaramente la soluzione DR deve essere gestita e qui potremmo aprire un altro tema di come selezioniamo una soluzione di MDR, quindi non solo le DR, ma anche la gestione sopra, quindi come andiamo a selezionarne una piuttosto che un'altra. e avevamo detto, se ricordo bene, che internamente non ci sono le competenze, non ci possono nemmeno essere a mio parere le competenze di seguire quel tipo di soluzione perché da una parte il team, da una parte è troppo costoso per l'azienda avere un team dedicato a quel tipo di lavoro, quindi solo presidio di soluzioni di sicurezza, di DR di cui stiamo parlando oggi. Dall'altra parte mio parere è probabile che chi si trova a fare questo mestiere che personalmente trovo affascinante in un contesto diciamo piccolo, ridotto, presto potrebbe voler andare a cercare contesti più interessanti e quindi lasciare diciamo l'azienda produttiva per cercare di fare lo stesso mestiere in ambienti più interessanti. Questo secondo me è prima la scarsità e il costo secondo la probabilità che le persone brave vogliano migrare in contesti più avvincenti fa sì che la gestione delle DR internamente a un certo tipo di azienda non sia possibile da un punto di vista economico e poi effettivamente anche pratico. Sì, diventa un po' complicato effettivamente c'è anche la questione carrieristica della singola persona nel momento in cui uno si prende una certa strada è possibile che anche il contesto in cui sta lavorando quindi un team IT che fa altro per mandato potrebbe a un certo punto stargli stretto effettivamente da considerare. Nella totalità delle aziende che conosco che hanno una soluzione di EDR però non hanno ancora scelto di farla gestire esternamente il risultato è che anche con le migliori intenzioni di dedicarci un certo tempo settimanale è che le soluzioni sono completamente ingestite. Questo lo do come dato della mia esperienza chiaramente ridotta ma è certo cioè è il 100% delle aziende che conosco che non è il cui EDR non è gestito fuori non è gestito nemmeno dentro cioè sono proprio cieco. Questo è un dato insomma secondo me abbastanza rilevante. Hai citato la Tiber prima che effettivamente riflettevo che la Tiber forse è la prima certificazione che dà come mandato il testing del perimetro non solo del perimetro diciamo della postura di sicurezza non ne ricordo altre. Allora diciamo che la grossa introduzione è stata proprio il passo il cambio perché che fossero obbligatori i pentest ad esempio lo erano già nell'ambito bancario era già la differenza è stata proprio l'introduzione del termine red team perché con red teaming in realtà si introduce tutto un universo di nuovi test che nel contesto del penetration testing non erano richiesti anche se ci si poteva andare molto vicini penso sia stato voluto il termine introdotto il termine red team proprio per togliere il dubbio diciamo evitare un'interpretazione troppo leggera dell'ambito penetration testing e obbligare a passare a un tipo di test molto più ampio molto più complesso che prevedeva anche l'azione fisica anche il penetration testing in realtà molte firme europee che americane parlavano già di pentesting fisico era una cosa nuova però usando red team non c'era più il video diciamo esatto è un fatto culturale che da noi PT spesso purtroppo accorpato col VA PT in modo scorretto veniva tradotto in web application penetration test quindi da noi c'è sempre stato questo difetto culturale in cui PT era applicazione web dove in realtà non è necessariamente così quindi una serie di condizioni hanno portato a limitare lo scopo del PT cosa che invece la Tiber ha messo nero su bianco non parliamo solo di PT ma parliamo di uno scopo molto più ampio sì poi probabilmente Tiber è pensato per l'ambito finanziario quindi mal si sposa con chi non ha quella dimensione e quindi parliamo di assicurazioni banche e assicurazioni e quindi diciamo è anche penso difficile per quegli enti applicarlo in maniera strutturata anche perché si parla tantissimo anche di threat intelligence all'interno dell'assicurazione quindi ci sono temi enormi che sono coerenti per il tipo di azienda volendo però prendere spunto da quei concetti e portarli sulle aziende diciamo anche di medie e dimensioni non necessariamente di grandi dimensioni potremmo imparare qualcosa e portarci a casa degli elementi di forse non necessariamente di retteaming ma almeno di adversarial simulation sì nel senso che ci sono sicuramente delle cose che possiamo fare all'interno delle aziende anche per testare le soluzioni edr o i servizi mdr che non necessariamente sfociano in tutto il contesto retteaming che sarebbe enorme e forse troppo costoso probabilmente in alcuni casi sicuramente fuori budget però diciamo ci sono dei compromessi che si possono fare si possono comunque fare delle attività più chirurgiche che prendano spunto da alcune delle tecniche che vengono usate anche in contesto retteaming e magari sono più focus sulle soluzioni di sicurezza ad esempio i testing di evasione sono cominciano a diventare abbastanza frequenti proprio in un certo senso anche vista la pervasività della soluzione cioè se è implementata bene dovrebbe toccare tutti gli end point anzi qua c'è un altro requisito da discutere probabilmente è stata cosa da analizzare sui quanti end point tocca quindi il livello di pervasività è molto alto quindi se è fatta bene se è implementata bene se vede bene quello che deve vedere ho un livello di controllo molto molto elevato rispetto ai log del firewall ad esempio che spesso per implementazione vedono solo il perimetro o ciò che attrapassa da una rete all'altra guardando gli end point potrei avere un livello di pervasività molto più alto mi sto segnando hai parlato di in certo senso di end point l'altra volta abbiamo parlato di scopo nel senso un cliente mi aveva fatto notare che per partire sarebbe andato su una soluzione diciamo più come la definita non ricordo più leggera nel senso che non aveva bisogno di tutti gli allarmi ma voleva qualcosa di meno intrusivo chiaramente questa affermazione implica voglio una soluzione che mi dà meno falsi positivi perché non ho tempo né voglia di stargli dietro bene ok però chiaramente c'è una scopertura e riflettevamo l'altra volta probabilmente un'azienda non sceglie una soluzione che è più stringente per determinati end point magari quelli esposti è una soluzione più lasca per altri tipi di end point che ne so magari i pc su zone protette perché è assurdo anche da un punto di vista finanziario comprarne due significa avere meno potere contrattuale quindi possiamo dar per certo che ci sia una soluzione unica per tutta l'azienda tu hai parlato di un certo senso di compatibilità end point cioè dove dobbiamo andarlo installare prima però volevo tornare un attimo alla parte di test dove mi incuriosisce sempre questa cosa che le aziende non testano le soluzioni che è un po' come secondo me è un problema finanziario nel senso si compra una soluzione che tipicamente non costa proprio poco perché cambiare i firewall cambiare il sistema di NAC ha un certo peso compreso le DR e poi ci si fida che funzioni ma se non funziona in realtà ci sono due impatti finanziari quello che ho speso dei soldi ma non ho risultato e quello che se non ho risultato è probabile che ci sia una scopertura che mi causerà danni ancora peggiori però ok apro e chiudo la parentesi si tra l'altro sulla compatibilità vai no no era una se parti con la compatibilità allora metto faccio una parentesi anche io vai è molto difficile che una soluzione DR ben implementata non spari una tonnellata inizialmente di falsi positivi è molto molto difficile quasi tutti quasi tutti ad esempio mi è venuto in mente su un allarme che avevo visto qualche giorno fa forse era quello di cui avevo anche scritto è molto raro che una soluzione DR by default non segnali un upload verso cloud anche se anche non in presenza di IOC quindi semplicemente per comportamento e non dia un allarme di sospetto di sfiltration se non lo dà si mi verrebbero dei grossi dubbi sulle regole di base che sono state implementate o sulle capacità di diciamo più che di detection di interpretazione quindi sulla parte si di fatto è detection perché sarebbe la parte comportamentale la componente comportamentale che si attiva in quel caso mi farei delle domande mi farei seriamente delle domande e questa cosa emerge di solito nelle prime fasi di implementazione perché nelle prime fasi ovviamente manca tutto il tuning e quindi se un'azienda ha banalmente un processo che per qualche ragione sincronizza un file con una cloud quindi c'è una sessione dall'interno verso l'esterno verso un set di IP che viene interpretato come cloud quindi proprio di solito il comportamento è proprio cloud upload messa in maniera molto chiara e non c'è un suspicious mi farei delle domande ma sempre dal punto di vista diciamo di come ragione di 3-tactor quell'attività è giustamente classificata come potenziale sfiltrazione perché è esattamente quello che farebbe un 3-tactor cioè dall'interno si sparerebbe un file verso l'esterno questo non vuol dire che dobbiamo togliergli quegli allarmi però dovremmo farci le domande quali sistemi sono autorizzati a mandare file all'esterno con che utenza con che frequenza e su quello costruire delle policy quindi ancora una volta è usabilità siamo in una situazione in cui un malware scritto bene quindi scritto bene per un target specifico non quelli generalisti è in qualche modo indistinguibile da un processo sollecito aziendale quindi che ne so usiamo TeamViewer ok però anche un 3-tactor potrebbe usare TeamViewer in realtà oppure un upload su Dropbox piuttosto che OneDrive eccetera può essere uno strumento aziendale ma è usato anche dai 3-tactor quindi è veramente difficile distinguere creare degli IOC assoluti in cui un comportamento è malevolo un comportamento è benigno è complicato ci sono degli IOC che dicono questo comportamento è sicuramente maligno ma dire dei come li chiamiamo negative IOC in cui un comportamento è sicuramente benigno in modo assoluto generalista perché chiaramente il vendor deve dare delle indicazioni generaliste è molto difficile sì e farei molta attenzione a prendere queste cose proprio alla grande nel senso sì questo comportamento è sicuramente buono perché sicuramente il genio del male che trova il modo per usare quel comportamento sicuramente buono in modo malevolo lo troviamo da qualche parte prima di passare alla parte di XDR direi di spendere due parole sulla compatibilità degli endpoint che non è solo dove si può installare l'agent dell'IDR ma in realtà è un tema più complesso allora generalmente le aziende hanno bisogno di Windows chiaramente Linux perché un piccolo o grande sotto insieme di servizi viene eseguito su sistemi Linux in alcuni casi sempre più frequenti vedo Mac OS in ambito industriale vedo dei sistemi molto vecchi Windows basati ancora su Windows XP in alcuni casi Windows 2000 senza spingerci così oltre ma in realtà anche Linux altrettanto vecchi ecco quello che volevo precisare è che il fatto che sia installabile su queste piattaforme più o meno recenti non significa che abbiano le stesse caratteristiche le stesse feature le stesse come possiamo chiamare capacità di detection di response chiamiamole così quello che io ho visto è che se sugli ambienti Windows recenti c'è un'altissima copertura dei casi d'attacco su sistemi Linux e macOS in realtà è molto molto ridotto quindi questa cosa va assolutamente considerata e direi proprio se un'azienda volesse testarle partire proprio da qui e la parte legacy laddove ha senso perché in molti ambienti che conosco sono intoccabili però laddove ha senso direi che è una cosa da considerare soprattutto in ambito industriale e medicale mi vengono in mente si tra l'altro a fronte aggiungo a rinforzo a fronte del fatto che i 3 Tactor in realtà si sono molto evoluti sul mondo sul mondo Mac ad esempio che diciamo ha sempre avuto fama di essere meno toccato e parliamo di dati statistici non di non di non voglio diciamo accendere il tema architetturale proprio statisticamente ci sono sempre stati meno malware sul mondo sul mondo Mac ma quello che stiamo osservando diciamo gli ultimi anni è che ovviamente i 3 Tactor si sono adeguati anche alla tipologia di desktop che usano gli utenti quindi più aumenta avendo molto frequentemente device di quella tipologia in azienda ovviamente i 3 Tactor si sono spostati anche su quella tipologia di architettura e tra l'altro i software che usiamo a livello di security test che spesso sono gli stessi che usano i 3 Tactor anche se a volte leggermente modificati e adesso mi viene in mente sempre slider che è quello con cui sto giocando mettono ovviamente a disposizione agenti per tutte e tre le piattaforme Windows Linux e Mac OS quindi assolutamente indistintamente possono essere eseguite attività profonde di attacco basandosi anche su desktop di quel tipo quindi non entriamo nel mood o Mac non mi serve un IDR evoluto non mi serve un controllo su quel tipo di dispositivo oppure ho un device un server Linux una volta c'era questa tendenza Linux non serve l'antivirus su Linux Linux è più sicuro Mac è più sicuro esatto questa cosa non è assolutamente più vera ma da parecchio tempo diciamo diciamo che implicitamente intendo di base può essere configurato forse in maniera più ardenizzata vediamola così che questo venga fatto no che questo implichi la sicurezza assoluta no perché come sappiamo se un applicativo lecito ha un buco lecitamente viene eseguito codice malevolo tra virgolette passami gioco di parole poi l'ultimo ping l'ultimo bit che aggiungo è sui device diciamo desktop occhio anche a chi usa in varie modalità la virtualizzazione che possono essere le macchine virtuali sempre sugli utenti Mac il fusion di turno per usare software Microsoft ma molto più frequentemente soprattutto nelle utenze tecniche il sottosistema Linux sulle macchine Windows usatissimo molti sistemisti hanno la virtual machine di solito basata proprio sul sistema virtualizzazione di Windows ecco quella macchina lì è una virtual machine di tutti gli effetti i suoi processi i suoi eventi se l'EDR è installato sul desktop non sono visti completamente cioè non c'è visibilità all'interno della virtual machine occhio perché poi il 3-tactor ci sono situazioni in cui il 3-tactor sfrutta proprio quella macchina quella macchina non controllata da una posizione molto comoda vero e meriterebbe ma non lo affronterebbe qui adesso un discorso simile anche alla parte di container esatto assolutamente assolutamente in realtà prima di passare la parte XDR mi è venuto in mente una mancanza non ho citato la parte mobile Android e iOS allora non ho un'opinione ancora fissa cioè il senso è non sono così sicuro che l'installazione di endpoint protection sulla parte mobile abbassi notevolmente il rischio hai esperienza in merito? allora dal punto di vista difensivo in realtà ho poca esperienza dal punto di vista offensivo la tendenza essenzialmente ci sono due macromodalità una quella forse più pericolosa è l'installazione di app fasulle cosa che si può prevenire in realtà effettivamente non necessariamente con un EDR cioè è qualcosa che puoi gestire a livello di politica o comunque MDM stiamo parlando di gestione del device mobile ed è una delle principali modalità con cui i detector cercano in qualche misura di governare un device le altre modalità sono più profonde e richiedono l'accesso fisico al dispositivo quindi per l'installazione poi di componenti comunque stiamo parlando di componenti malevole installate sul dispositivo ma richiedono appunto tendenzialmente un accesso fisico quindi poi le vulnerabilità che vengono utilizzate sono quelle che per qualche ragione consentono di bypassare l'accesso effettivamente a meno quelle che ho affrontato io statisticamente nel mondo vero hanno più a che fare con il comportamento dell'utente più che con quello che si può fare sul dispositivo poi il dispositivo di base ha gli stessi problemi degli altri sistemi operativi e forse dico forse è più facile è più diciamo ci sono più contesti in cui si può accedere a quel dispositivo a livello fisico uno smartphone ad esempio classici casi famosi dei punti di ricarica diciamo camuffati dove c'erano in realtà poi dei dispositivi a cui lo smartphone veniva collegato però ripeto tutte cose in cui c'è ampio ci sono ampie soluzioni di prevenzione dall'adattatore usb che fa passare soltanto la parte diciamo di tensione elettrica e non la parte dati cioè ci sono tutta una serie di elementi e anche di decautele che l'utente può fare che riducono enormemente diciamo il rischio da quel punto di vista poi di per sé su un dispositivo critico io probabilmente andrei a tappeto per visibilità andrei a tappeto installerei anche su quelle componenti una 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 cioè estenderei la visibilità anche alle piattaforme mobile a livello di telemetria rendendoci conto però del fatto che il 3Tactor li usa diversamente da come utilizza un 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 desktop o un server o un dispositivo all'interno dell'azienda cioè le attività che va a fare sono diverse quindi anche quello che dobbiamo cercare a livello di comportamenti è diverso sì concordo chiarisco diciamo la mia affermazione o la mia perplessità in parte quello che hai detto tu una buona piattaforma di MDM configurata in modo corretto probabilmente riduce il rischio molto poi se il diciamo il conto economico è affrontabile sostenibile per l'azienda installare la gente anche sulla parte mobile e l'aiuta ad avere anche quella parte di visibilità che adesso qui sarà sono veramente curioso di capire quanto la gente dell'empoint protection su un android e ios è in grado di fare paragonato diciamo all'equivalente su un sistema operativo la mia sensazione sensazione è che per come sono costruiti sia ios che android hanno un meccanismo abbastanza implicito di autoprotezione che limita notevolmente la capacità della gente questo perché ricordo che qualche ormai saranno passati uno o due anni era venuto fuori un caso di spionaggio di persone giornalisti persone chiave con un malware purtroppo in questo momento non ricordo il nome e avevo seguito la cosa perché mi incuriosiva a verificare come si poteva rilevare la presenza o meno sui cellulari e tra l'altro tra android e ios era molto diversa la capacità di verifica se quel malware effettivamente era installato e in alcuni casi non era possibile farlo proprio per le difficoltà di apertura della piattaforma quindi ho esteso il ragionamento sull'empoint protection è domanda aperta se qualcuno poi ha esperienza e vuole raccontare credo possiamo invitarlo non ho mai fatto test di evasion su un android quindi effettivamente non ho idea di come si comporti l'EDR di turno bene ti propongo di passare alla parte di xdr che doveva essere l'argomento principale ma a